buongiorno e benvenuti qui dal Campi Kennedy vediamo la terza giornata, quarta giornata Sunday Cup, West End contro Millwall, Millwall, Maya Bianca, West End, Granata, Granata, e il derby in Viterra vediamo le squadre che si apprezzano le persone, l'applauso dei Juli Gans accorti per vedere la partita, saluto rituale con avviattari ed altri, altro che sarà Alessandro Passarella ma siamo assenso i capitani, bocca al lupo alle squadre, ciao a dopo inizio del primo tempo, torneo, social camp, quarta giornata di affrontarsi il West End contro Millwall non c'è il punteggio di 1-0 West End, il gol è stato di Parisi non c'è l'euro, non c'è l'euro, non c'è l'euro, non c'è l'euro e la triangolazione uno o due di aspetto, passaggi davvero splendidi, non avrete i primi regi per il två di tema, ruggeri, a me, a me, a me, a me, a me, a me. A me, a me. che parla di l'esercizio di Serbia un paio di qui due a due ora West Ham che si porta sul punteggio di 3 a 1 con il numero 19 in Parisi ancora lui e poi il numero 19 in area per il ritmo il potere è brutto il numero 19 ora 1, 2, spedio di giro Paese con uno splendido Griglino in area fa il suo terzo gol e ora lo splendido tiro del capitano West Coast D'Ambrosio che lascia battere interessanti fino a strutturire termina nell'angolino basso della porta di giro D'Ambrosio 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 Vediamo il numero 19 Paesi, al centro! Per noi è in pratica di rinunzione, per due stelle, per il numero 10 su un giro. Il destro è terrificante, ma il tocchiere è del mingol. Senta il volo! Parisi, dopo una splendida apertura di Vincenzo! Tiro del numero 18! Parte Parisi, Parisi al centro! Per Campagna! Parisi, Parisi, Parisi! Il palo! Parisi! Parisi è solo il portere in segna! Parisi! Ancora anche il gol! Del numero 13, subito dopo! La reazione di sotto! 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 Deguardo, Deguardo! La reazione di sotto! Il dico delle tue! E tua scompo! Il giro è tutto del momento! Ma nuova! Il giro è tutto! Il giro è tutto! Il giro è tutto! 3 contro il portiere inizia anche il secondo tempo con il risultato di 8 a 3 West End andiamo il collegamento da poche